Il momento, lo hacker, è una tortina, è il momento più magico che c'è. Un discorso insieme a te, un incontro dove c'è una via, una pazzia, una magica poesia, la felice simpatia. Lo hacker è una piccola tortina di magia, il momento più magico che c'è. Tortina, lo hacker.